Alla giunta comunale che c'era una volta avevano detto che la strada di Supersano non riuscivano a farla per quell'acquazione piovana che c'era. Adesso vediamo cosa conclude la giunta che c'è qualcuno della giunta vecchia anche con Stefano. Se riescono a farla quella strada che se no qualcuno deve andare con la barca a scendere in paese. Quindi il problema qual è? Che quando piove si allaga la strada. Allora un post-it per il sindaco Stefano? Se era possibile.